Musica Presidente Cruzetto, tempo di dichiarazione dei redditi. Quindi naturalmente Confartigianato non è soltanto attività sindacale che peraltro continua incessantemente a sostenere le varie categorie degli artigiani associati ma in realtà è anche un ricco paniere di servizi. In questo caso parliamo di servizi fiscali. Sicuramente accanto alla nostra attività di difesa sindacale che continuiamo a portare avanti in maniera importante in questo anno c'è sicuramente tutta l'attività che abbiamo messo in piedi di servizi per le nostre imprese, per i nostri colleghi imprenditori e artigiani. Questo è un momento particolare dell'anno, un momento dove il servizio legato al fiscale è sicuramente uno dei servizi più richiesti. Vorrei spingere tutti i nostri colleghi ad affidarsi ai nostri uffici, uffici dove troverete competenza, disponibilità, voglia di essere soprattutto consulenti delle nostre imprese perché questo vogliamo diventare, vogliamo esserlo sempre di più nei prossimi anni. Ecco, la mission di Confartigianato Imprese Cuneo è anche questo, non è soltanto l'attività tradizionale che poi è quella veramente dei corpi intermedi, di difesa delle categorie del comparto ma è anche quella di sostenere il comparto nello sviluppo e i servizi sono una pietra miliare dello sviluppo. Sicuramente, noi vogliamo crescere, vogliamo diventare sempre più un'organizzazione che accompagna le imprese. A fianco delle imprese, lo abbiamo detto da più volte, per cui vogliamo essere a fianco dei nostri colleghi imprenditori per sostenerli, per aiutarli, per cercare di risolvere loro delle problematiche. Quindi il nostro momento è quello di affiancarvi, di trovare attraverso i nostri uffici, attraverso i servizi che vi mettiamo a disposizione, un migliorare la nostra vita, un migliorare quella che è l'attività che noi possiamo continuare a svolgere all'interno del nostro lavoro, lasciando un po' di burocrazia all'associazione, a coloro che possono esservi a fianco, cercando di farvi recuperare tempo e quello che voi così potrete dedicare a delle nuove attività, alle attività all'interno delle vostre imprese. Quindi maggiore consulenza da parte di Confartigianato nei prossimi anni. Un aspetto importante del ruolo di Confartigianato, imprese Cuneo sul territorio e anche quello sociale, ha questa sua emanazione che è la Onlus di Confartigianato, di cui è Presidente Daniela Minetti. Innanzitutto parliamo di che cos'è la Onlus, quando è nata? La Onlus è nata nel 2009 per volontà appunto della Confartigianato. Gli imprenditori artigiani hanno voluto creare questo opposito ente per aiutare le persone in difficoltà economiche oppure le persone che hanno disagi familiari o disabilità. Quindi si è creduto in questo progetto per dimostrare che anche le imprese, oltre a essere una forte risorsa per il territorio, hanno una grossa impronta sociale nel senso che si aiutano le persone non solo dandogli lavoro ma anche sostenendoli economicamente. E a questo proposito parliamo del periodo. Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi, quindi ci sono i 7,30 per i quali Confartigianato ha sviluppato tutta una serie di servizi ad hoc per le imprese associate. Beh, in quell'occasione c'è anche una scelta importante da fare. Esatto, c'è la scelta del 5 per 1000 e la nostra Onlus è accreditata per riceverlo e quindi chiediamo agli artigiani e non solo, a chiunque faccia la dichiarazione, e dei redditi, di darci un aiuto. È una piccola firma, è un piccolo gesto che però può portare dei sorrisi nelle famiglie della nostra zona. E di tanti gesti ne avete già fatti negli anni, vero? Sì, abbiamo già devoluto una cifra abbastanza consistente per aiutare le famiglie e recentemente siamo intervenuti per aiutare le zone terremotate della nostra penisola. Quindi, Confartigianato Imprese Cuneo è sempre presente, sia nelle difficoltà anche di altre realtà provinciali e comunque su tutto il territorio nazionale, oppure alle imprese e le famiglie che si trovano in difficoltà oggettiva proprio sul nostro territorio? Effettivamente la nostra caratteristica è che i fondi che riceviamo cercano di rimanere sul territorio cuneese e quindi aiutare la nostra società. E allora, ricordiamo ancora, c'è la possibilità di fare una scelta, una scelta di cuore, una scelta del 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi, che non costa nulla perché non è che aumentate le tasse scegliendo a chi devolvere il 5 per 1000. E se è possibile, devolviamolo alla Onlus di Confartigianato Imprese Cuneo. Per i dettagli basta rivolgersi agli uffici. Sì, si può appunto rivolgersi agli uffici e poi chiediamo anche se qualcuno di voi ha necessità o conosce delle famiglie che hanno dei problemi, si possono rivolgere a noi e noi dove possiamo cercheremo di aiutare. Sì, si può appunto rivolgersi agli uffici.